Ben ritrovati dalla redazione, un bimbo di circa tre anni è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Burlo Garofolo di Trieste dopo essere rimasto uscionato a causa di un incidente domestico avvenuto all'interno di un'abitazione di viale d'annunzio. L'episodio la cui dinamica pare ancora poco chiara è avvenuto. Ieri il bimbo è stato soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con automedica e ambulanza. Secondo quanto si è preso il bambino avrebbe subito ustioni tra il primo e secondo grado su circa 10% del corpo a caso di un liquido bollente che gli sarebbe caduto addosso. Lo smottamento di un terreno privato obbligato alla chiusura traffico del tratto iniziale di via Piani, una delle laterali di strada del Friuli all'altezza del faro della Vittoria a Trieste, a causare il crollo del muro che proteggeva il terreno avvenuto intorno a luna di notte tra lunedì e martedì è stata l'abbonante pioggia caduta su Trieste a Pasquetta, la quale oltre ai detriti ha trascinato sulla carreggiata anche la rupa del proprietario che proprio in quei giorni stava svolgendo dei lavori e di là del mezzo non ci sono stati altri danni. L'assessore regionale alla protezione civile Riccardo Riccardi ha effettuato ieri un sopralluogo sulle località del territorio maggiormente colpiti da delle frane causate dal maltempo e degli ultimi giorni. L'assessore ha sorvolato in elicottero le aree interessate dagli eventi franosi occorsi nei comuni di Amaro, sull'autostrada A23, sulla strada militare ad uso pubblico Amaro-Campiolo, Treppo-Ligosullo, strada comunale per Castelvaldaiere e Tolmezzo, località Cazzaso. Sport calcio Triestina-Atalanta under 23-1 a 1. Il recupero contro l'Atalanta finisce in parità ed è tutto sommato un risultato giusto. Nel primo tempo occasioni da ambo le parti nella ripresa all'undici di Bordin va in vantaggio con il terzino sloveno per poi farsi raggiungere qualche minuto dopo complice una sbandata difensiva. Trieste si prepara a tornare ad essere la capitale del water polo internazionale e lo fa nell'anno in cui mai sino ad ora la Palanotto Trieste può ambire così concretamente a un trionfo in ambito femminile. La nomina European Aquatics, la Lega Europea delle Discipline Aquatiche, ha dato l'ok al sodalizio presieduto da Enrico Samer per ospitare alla Bruno Bianchi la Final Four dell'Eurocup femminile. Il capoluogo del Friuli Venezia Giulia è un po' inaspettatamente ha superato la concorrenza di Budapest che pareva già certa dell'organizzazione dell'attesissimo evento. Le date sabato 13 e domenica 14 aprile il polo natatorio di Sant'Andrea ospiterà i quattro match che sanciranno la vincente della seconda manifestazione continentale per club più importante del Palanotto. L'ingresso al pubblico sarà gratuito. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Cielo in genere variabile sull'alta pianura e sulla zona montana, probabile maggiore nuvolosità con possibilità di qualche debole pioggia e forse anche di qualche rovescio sulle prealpi e sulla costa in quota. Vento moderato in prevalenza da sud ovest. Temperature minime in pianura fra 6 e 9, le massime fra 17 e le 20. Costa minime fra 9 e 12, massime fra 15 e 17 gradi centigradi. Previsioni a cura di Arpa FWG Meteo. Ed è tutto per il momento con informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi. Grazie a tutti.